porta le mani di fronte a te ed incrocia le dita con i palmi rivolti verso l'alto le dita sono aderite al tempo stesso rilassate e formano un angolo di 60 gradi le mani sono di fronte a te tra il plesso solare ed il cuore cantiamo il mantra gobinde mukande udare apare harian karian nirname akame più velocemente possibile qui lo canterò quattro volte per ogni ispirazione vogliamo entrare la corrente del suono con la nostra voce gli occhi rimangono un decimo aperti gobinde mukande udare apare harian karian nirname akame gobinde mukande udare apare harian karian nirname akame Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti.